Leonardo Silva Revisore Come si fa a un bambino a dargli, negli anni 60, la merenda era pane, rosetta, acqua e zucchero. Lo fai oggi, è olio se stavi ingranato. Però era pane, acqua e zucchero sostanzialmente, che se tu lo devi a un bambino oggi, dici, che cos'è, Guantanamo? Chiamano il telefono azzurro, ti arrestano, esci da casa, che fa? Perché c'è il carboidrato, c'è lo zucchero. Ma il bambino deve mangiare, infatti il bambino di oggi, i bambini di oggi sono frascichi. Perché gli anni, quelli lì del 60, tutti i mezzi romo, tutti i suzzi, non c'era il bulletto, perché tutti eravamo bulleti. Lì ti cavamo, giocavamo a pallone. E se il ragazzino che sta al computerino, poi quando c'è uno gli fa, buh, 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 buh. Ma è normale che è così. E se sei tutti fida una mignota, non ti fida una mignota, no? Non è così. Quando stavi male, stavi male. Adesso subito arriva l'elicottero, il bambino fa, è il sommergibile, elicottero. Perché l'hai al distrato frascico. Molto semplice. Mio padre mi diceva sempre, ricordate, il leone ha paura del domatore, perché quando è piccoletto, con la sedia che fa, oi, oi, e quando cresce, il leone quando lo vede, la sedia con la frusta, dice, ecco quello che ha la frusta. Si è persa simpaticamente la paura. Prima il maestro ti corcava, fide di Maurizio, battì, mettevi le manusce e nessuno, tu, 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 tu. E nessuno ha detto, maestro, Viola Nicola si chiamava il mio, me lo ricordo, pensa quanto io l'ho bene, e mi menava. Dico, maestro, ma lei ha menato il mio figlio. Mi madre a Natalia portava il panettone a Colomba e gli diceva, grazie per il lavoro a casa che mi ha allevato. Ma che qualcuno, adesso, non sto scherzando, ecco perché, dico, era meglio. Io sono un po' nostalgico. Adesso le mamme portano i bambini a scuola e subito vanno al bar vicino alla scuola a parlare, chiaramente, dalla maestra. Guarda così, sta stronza. No, capito, mi fia. No, capito, sbagliavo tutto. E ragazzino, nasce quello che vedi. Però poi gli danno sta cosa. Guarda questa qua, se è roba che si può dare... Un ragazzino... Scusate che sto raffreddato, ma tanto... Senti questo, senti questo. Faltano. No, no, no. E ragazzino, è tipo allucinogeno. E ragazzino, gli dici... No, stanna... Che cazzo. Mi dicevo, ragazzino, che ora sto? Perché sennò che fai, mannaggia.